Sta per essere tagliato il nastro di partenza del nuovo anno scolastico delle Marche. Il 15 settembre oltre 200.000 ragazze e ragazzi della regione torneranno in aula. La stessa aula che per diversi mesi è stata sostituita dalla didattica a distanza a causa del Covid. Per garantire il regolare avvio delle lezioni, l'ufficio scolastico regionale ha fatto sapere che nelle Marche sono stati assunti 1.622 docenti, un numero tre volte superiore rispetto a quello registrato nel 2020. L'avvio del nuovo ciclo scolastico segna anche il ritorno o l'introduzione di diverse misure di sicurezza, dalle mascherine in classe al certificato verde per il personale scolastico. Un altro banco di prova importante sarà quello affidato ai trasporti. Nelle regioni bianche o gialle la capienza a bordo dei mezzi pubblici locali è fissata all'80%. Durante il tavolo tecnico di coordinamento dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano della provincia pesarese, è stato reso noto che con l'inizio della scuola saranno utilizzati 26 bus aggiuntivi rispetto al periodo pre-Covid, per un totale di 311 mezzi. Confermati anche i 18 nuovi stalli di sosta per scaglionare gli ingressi e la presenza di steward e controllori alle fermate. Ad aver già ripreso la propria attività da qualche giorno sono invece le scuole dell'infanzia. Dalla giornata di ieri, rispettando la normativa entrata in vigore a livello nazionale, anche nelle 26 sedi del territorio comunale pesarese, 13 nidi e 13 materne, l'accesso alle strutture educative è consentito unicamente con il Green Pass. Non solo il personale scolastico dunque, ma anche i genitori o gli accompagnatori dei bambini dovranno possedere ed esibire la certificazione verde per accedere agli spazi interni delle scuole. Nella prima giornata i controlli svolti a campione, che una volta portata a termine la macchina organizzativa diventeranno giornalieri e capillari con attrezzature idonee, non hanno portato alla luce problematiche o assenze di certificati. Anche tra il personale delle scuole d'infanzia la situazione è sotto controllo. Stiamo cercando di avere un colloquio con una docente in particolare, però tutto il personale, sia le educatrici che le insegnanti delle scuole d'infanzia, che tutto il personale non docente non abbiamo avuto particolari problematiche. L'8 di settembre abbiamo iniziato con i nidi, ieri abbiamo iniziato con l'inserimento dei bambini già frequentanti, giovedì inizieranno i nuovi e quindi il Green Pass è stato un percorso non facile perché all'inizio pensavamo, soprattutto per i genitori, che non ce ne fosse necessità e poi fra venerdì e sabato è arrivata questa nuova legge per cui ci stiamo lentamente adeguando alla norma per cui tutti i genitori sanno che se vogliono entrare dovranno avere il Green Pass. Non abbiamo avuto delle grandi obiezioni a tutt'oggi, per cui vedremo giovedì che cosa succederà. L'assessore Ceccarelli ha poi rivolto un augurio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti pronti da domani a tornare sui banchi di scuola. Io dico a tutti questi ragazzi che domani affronteranno il primo giorno di questo anno scolastico problematico ma non privo di fiducia e di speranza, che troveranno nelle loro classi, fra i loro docenti, nelle istituzioni una risposta positiva a quelle che sono le loro aspettative, le aspettative di socialità, di apprendimento. Un anno e mezzo quasi di allontanamento, di difficoltà attraverso, per le loro lezioni, per la DAD, eccetera, hanno un po' frenato i loro entusiasmi. Questo non deve più accadere. Spero che questa esperienza di vita li abbia fortificati e non indeboliti.